Siamo con Bassam Saleh, palestinese del Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, di rientro dal Libano dove ogni anno il Comitato fa una delegazione in questi giorni di settembre per ricordare la strage israeliana nei campi profughi palestinesi. Quest'anno un viaggio anche più difficile per la situazione di tensione di tutto il Medio Oriente, pensiamo a cosa sta succedendo in Siria e in Iraq che ha ripercussioni dirette sul Libano e sui campi profughi palestinesi in Libano. Sicuramente, è una situazione non facile, molto tesa e molto pericolosa anche in tutto il Medio Oriente e in modo particolare dove si trovano i palestinesi. Questo è il dodicesimo anno, mi sembra che andiamo tutti gli anni a Beirut, visitiamo tutti i campi profughi palestinesi e uno può uscire anche con una certa, non conclusione, ma un riassunto della situazione, la differenza tra quest'anno e gli altri anni. Noi nei campi profughi abbiamo trovato che i campi sono moltiplicati praticamente di abitanti, famiglie che avevano due stanze e li hanno divisi con altre. I profughi palestinesi della Siria vivono una situazione tremenda, ma tremenda veramente perché sono perseguitati da questa guerra, sono dovuti uscire senza aver nessuna colpa, hanno visto i roli familiari, i loro casi distrutti da parte di queste ribelle siriane e vivono adesso una situazione in Libano dove non ci stanno i diritti, un cambio totale della situazione. In Siria avevano tutti i diritti al lavoro, alla politica, a fare tutto quello che volevano, in Libano non ci sono i diritti. Quindi primo scontro con questo. Altro scontro l'abbiamo contestato molto e ho constatato molto bene questa volta nelle scuole. I programmi scolastici dell'ONORWA della Siria sono diversi da quelli del Libano, quindi anche i ragazzi palestinesi che venivano dalla Siria hanno trovato questa difficoltà. Le scuole nostre sono state triplicate, nelle classi ci sono 40-50 studenti perché devono mettere anche i ragazzi che vengono dalla Siria. È una situazione politica molto tesa, visto anche che questo gruppo di Daesh o di Lisi come viene conosciuto in Europa sta penetrando anche in certe zone del Libano, specialmente nella valle del Bicà e ha sequestrato un gruppo di soldati libanesi. C'è uno scontro quasi continuo, hanno già giustiziato quattro persone, quattro soldati sparandoli pubblicamente. In più la situazione economica del Libano, che stesso Libano senza il Presidente della Repubblica ancora, un Parlamento che deve andare in elezione, ancora non riescono ad andare in elezione. Quindi è una confusione quasi totale, esattamente quello che volevano gli americani è creare un casino creativo. Questa tua affermazione può essere vista come contraddittoria con i bombardamenti che gli americani adesso stanno facendo proprio contro i ribelli, l'ISIS in Iraq e in Siria? Ma è inutile nasconderlo, questo è il prodotto, il mostro che hanno prodotto gli americani e ora vogliono ammazzarlo, ma prima di ammazzarlo già stanno ammazzando altra gente. Questa è una bella scusa secondo me, secondo tanti analisti libanesi che abbiamo sentito, di mettere la zona a un baratro infinito, un caos infinito e poi uscirà quello che uscirà fuori. L'ISIS, lo sappiamo perfettamente, il cavo del Bagdade era uno che si incontrava con i responsabili americani, che era un parte del Mossad israeliano, è stato pubblicato su tutti i giornali arabi, quindi che c'entra questo con l'Islam e con gli altri Islam? Non per difendere l'Islam, ma per difendere i principi dell'umanità nell'Islam. Questi non sono islamici, non guardano nemmeno l'Islam, questi sono dei terroristi, ma non siamo d'accordo con il metodo in cui gli americani stanno affrontando la questione, perché se domani bombardano qualcosa in Siria, come sta quasi succedendo, non finirà più. Quindi dovevano gli americani prima di tutto capire che cosa succede nel Medio Oriente, ma quello hanno voluto loro, è il prodotto loro, il mostro l'hanno creato loro, ma non possono ammazzarlo per ammazzare altre persone come in modo collaterale ammazzare la gente civile e distruggere un altro paese come la Siria o come un altro paese. Torniamo alla Palestina, i palestinesi, voi avete incontrato i profughi palestinesi che stanno in Libano, quelli che sono dovuti sfollare dalla Siria e adesso sono rifugiati in Libano, c'è stato il massacro di Gaza pochi mesi fa, qual è il significato della manifestazione che ci sarà domani, che è stata convocata dalle comunità palestinesi in Italia? Le comunità palestinesi hanno voluto questa manifestazione, è stata decisa quando c'erano ancora i bombardamenti su Gaza, continuare a chiedere la stessa cosa, fare la manifestazione perché c'è una continuazione dell'occupazione, cioè la Palestina non finisce solo quando si fermano i bombardamenti israeliani, la questione palestinese è una questione continua da più di 60 anni, l'occupazione continua dei territori palestinesi, la colonizzazione, la repressione, gli arresti, il muro, c'è tutta una questione che continua, quindi che i palestinesi hanno voluto fare questa manifestazione per dire che la nostra causa continua, anche se non ci stanno i bombardamenti, vogliamo chiedere la fine di questa occupazione, la stessa cosa che sta facendo adesso Abomasen davanti alle Nazioni Unite, chiedendo un calendario della fine dell'occupazione israeliana, dei territori occupati nel 67 e arrivare a un calendario proprio quando cominciate ad andare e presenterà questa domanda anche al Consiglio di Sicurezza e se non la accetteranno andremo a fermare più di 512 convenzioni con tutte le organizzazioni internazionali per portare i criminali israeliani davanti ai tribunali internazionali. Come quello che dovrebbe essere per Sharon che fu responsabile di questa presciativa? Sicuramente perché noi quando parliamo dei massacri, perché qualcuno mi ha domandato in Libano perché continuano questi massacri, la risposta era molto chiara, finché l'assassino e il criminale continuano a essere liberi i massacri continuano, bisogna prendere l'assassino. Grazie a tutti!